oscar wilde aforismi sulle donne le donne sono fatte per essere amate non per essere comprese le donne nascondono i loro sentimenti finché non hanno preso marito allora ne fanno mostra è a causa delle donne che il male si è sparso nel mondo gli uomini conoscono troppo presto la vita le donne troppo tardi ecco tutta la differenza fra uomini e donne finché una donna riesce a sembrare di dieci anni più giovane della propria figlia è una donna felice è solamente una femmina la donna che non sa rendere piacevoli i propri errori l'uomo può amare so che gli è inferiore può amare anche cose indegne macchiate disonorate le donne adorano quando amano e quando perdono la loro adorazione perdono tutto la base logica del matrimonio è il malinteso reciproco le donne hanno un istinto meraviglioso sognano tutto meno ciò che è evidente il pianto è il rifugio delle donne brutte ma è la rovina di quelle graziose ci vuole una donna sinceramente buona per fare una cosa sinceramente stupida date alle donne occasioni adeguate e potranno far tutto i dolori superficiali e gli amori superficiali durano gli amori e i dolori profondi sono uccisi dalla loro stessa intensità chiama una sola volta nella vita ha una natura superficiale quello che per me fu il paradosso nel pensiero fu nell'amore alla perversità una donna moralista indiscutibilmente brutta non vi è nulla al mondo che stia tanto male a una donna quanto una coscienza troppo rigida fortunatamente la maggioranza delle donne ne è convinta una donna avrà un flirt con chi che sia purché che abbia un pubblico in platea per una donna l'unico modo di cambiare radicalmente un uomo è quello di tediarlo al punto da fargli perdere ogni interesse per la vita il trionfo della materia sullo spirito ecco quello che rappresenta una donna per il filosofo non sperdetevi nei labirinti della virtù ecco il grande difetto delle donne desiderano sempre vedersi virtuosi ma se lo siamo quando fanno la nostra conoscenza non piacciamo loro per niente piace loro trovarci rimediabilmente cattivi e lasciarci intollerabilmente buoni le donne perverse ci tormentano le donne buone ci annoiano ecco tutta la differenza fra di esse il più grande peccato è la superficialità credo che non esista una donna che non sarebbe un tantino lusingata se le si facesse la corte ecco il fascino irresistibile della donna non vi può essere amicizia tra l'uomo e la donna vi può essere la passione l'ostilità l'adorazione l'amore ma l'amicizia no rileviamo sempre qualcosa di ridicolo nelle emozioni delle persone che abbiamo cessato di amare mi piacciono le donne che hanno un passato come gli uomini che hanno un avvenire le donne disse un francese di spirito ci ispirano il desiderio di compiere i capolavori e ci impediscono sempre di compierli con la donna la vera tattica è di farle la corte se è graziosa e di farla ad un'altra è brutta le donne donano all'uomo il vero oro della vita forse è così ma lo rivolgono poi in spiccioli di conio così basso una sfinge senza segreti è questa la definizione del sesso femminile cosa si intende per una donna perversa quel tipo di donna di cui un uomo non si stanca mai non vi è nulla al mondo paragonabili alla devozione di una moglie i mariti non ne hanno idea l'innamorato inizia con l'ingannare se stesso e finisce con l'ingannare gli altri nella vita coniugale tre sono una compagnia due non lo sono come è possibile che una donna viva felice con un uomo che insiste nel trattarla come se fosse un essere perfettamente ragionevole il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte per gli amanti la fuga è vile significa sottrarsi al pericolo e il pericolo è diventato così raro nella vita moderna quando una donna si riposa è segno che detestava il primo marito quando un uomo si riposa è segno che adorava la moglie la donna mette tutta la sua fortuna alla prova l'uomo la rischia se una donna desidera conservare il dominio sopra un uomo non ha che da rivolgersi a ciò che vi è di peggiore in lui gli uomini bramano sempre essere il primo amore della donna è questo un effetto della loro sciocca vanità le donne hanno un istinto più sottile esse desiderano essere l'ultimo romanzo dell'uomo l'uomo si sposa perché è stanco la donna perché è curiosa entrambi rimangono disillusi tutti gli uomini sono proprietà delle donne maritate non vi altra definizione della donna maritata la tragedia delle donne è destino che divengano simili alle loro madri si dovrebbe essere sempre innamorati ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi la storia della donna è la storia della peggiore tirannia che il mondo abbia conosciuto la tirannia del debole sul forte ed è la sola tirannia che duri le donne ci amano per i nostri difetti se ne abbiamo abbastanza si perdoneranno tutto anche il nostro gigantesco intelletto nessuno riesce ad ottenere reali successi nel mondo se non è seguito dalle donne perché le donne reggono la società le donne apprezzano la crudeltà più di qualunque altra cosa e amano esserne dominate la felicità di un uomo ammogliato dipende dalle donne che non ha sposato ogni volta che si ama è la sola volta che si è amati la differenza dell'oggetto non altera la singolarità della passione la intensifica semplicemente che sciocchezza parlare di matrimoni felici un uomo può essere felice con qualsiasi donna ma solo finché non l'ama veramente i mariti non sanno mai apprezzare le qualità delle mogli per questo esse debbono rivolgersi altrove è noioso essere adorato le donne ci trattano come l'umanità ha trattato i suoi dei ci adorano e ci tormentano sempre perché facciamo qualche cosa per loro il sesso femminile è un sesso decorativo non ha nulla da dire ma dice quel nulla con garbo se si vuole sapere quello che una donna intende veramente questo è sempre un desiderio pericoloso bisogna guardarla non ascoltarla non bisogna dir male dei capelli tinti e delle guance dipinte qualche volta hanno un fascino straordinario non vi sono che due categorie di donne le brutte e le dipinte le donne brutte sono molto utili se volete farvi una nomea di rispettabilità basta condurne una a cena ma le altre sono affascinanti però commettono un errore si dipingono per sembrare più giovani quanto si gonfia il valore della fedeltà perfino in amore non è altro che una questione fisiologica è indipendente dalla nostra volontà i giovani vorrebbero essere fedeli e non possono esserlo i vecchi vorrebbero essere infedeli e non ci riescono le donne rovinano ogni rapporto con il desiderio di perpetuarlo in eterno le donne non sanno apprezzare la bellezza nell'uomo almeno le donne buone non la sanno apprezzare gli amanti fedeli non conoscono che il lato triviale dell'amore le tragedie dell'amore sono riservate agli amanti infedeli il fascino del matrimonio consiste solo nel fatto che rende necessaria per entrambi i coniugi una vita di inganni è difficile non essere ingiusti verso chi si ama le donne somigliano ai minorenni vivono delle loro speranze l'unica differenza che corre fra un capriccio e una passione eterna è che capriccio più durevole il matrimonio è una specie di serra conduce a maturità strani peccati e talvolta strane rinuncia la donna ha indovinato tutto il pericolo del ragionamento fin dall'origine mi pare che l'amore sia l'unica spiegazione dell'enorme sofferenza che è nel mondo non potrei trovarne una migliore anzi sono convinto che non ve ne sia un'altra perché se il mondo è stato veramente formato di dolore è stato però creato dalle mani dell'amore in nessun'altra maniera potrebbe l'anima dell'uomo per cui esso fu creato raggiungere l'apice della sua perfezione le donne secondo alcuni amano con l'udito gli uomini invece con la vista seppure amano vent'anni di relazione fanno di una donna una rovina ma vent'anni di matrimonio un monumento per una ragazza un fidanzamento dovrebbe arrivare come una sorpresa lieta o spiacevole a seconda dei casi non dovrebbe esserle veramente lasciato l'arbitrio di agire da sola non vedo proprio niente di romantico nelle proposte di matrimonio è molto molto romantico l'amore ma non c'è romanticismo nel chiedere la mano di una signorina si corre sempre il rischio di essere accettati e si finisce proprio a quel modo nel maggior numero dei casi allora tutto l'interesse viene meno l'incertezza la quintessenza del romanticismo le donne brutte sono sempre gelose dei loro mariti le belle mai non ne hanno il tempo hanno troppo da fare per la gelosia dei mariti delle altre ridete pure ma è molto raro trovare una donna che legga fino in fondo al nostro animo è addirittura scandaloso vedere quante donne a londra mostrino di amare i propri mariti se ne riceve un'impressione così disastrosa non è altro che lavare la biancheria sporca in pubblico diffidate di una donna che dichiara la sua vera età una donna capace di questo sarà capace di tutto non credete all'esistenza di donne puritane una donna non deve mai precisare la sua età se non vuole sembrare un intrigante sono contrario ai lunghi fidanzamenti permettono agli sposi di conoscere i rispettivi caratteri prima del matrimonio cosa che non stimo mai desiderabile la società londinese conta a migliaia le donne rimaste all'età di 35 anni per loro scelta la donna non dovrebbe avere memoria quando una donna si accorge dell'indifferenza di suo marito verso di lei o trascura ogni eleganza o fa sfoggio di cappelli elegantissimi che sono pagati dal marito di un'altra la memoria di una donna annuncia la fine della gioventù l'uomo quel povero sgraziato affannato e fidenta essere che l'uomo appartiene un sesso che da milioni e milioni di anni è stato dotato di ragione non è colpa sua è la sua natura la storia della donna è ben diversa è sempre stata una protesta pittoresca contro il buon senso i matrimoni vanno in malora più per il buon senso del marito che per altro le donne virtuose hanno una visione molto circoscritta della vita il loro orizzonte è molto ristretto i loro interessi molto meschini per dirlo in una parola non sono moderne e la modernità è l'unica cosa che vale al giorno d'oggi le donne sono un sesso affascinante e caparbio ogni donna è una ribelle di solito insorge violentemente contro se stessa le donne conservano meravigliosamente gli istinti primitivi noi le abbiamo emancipate eppure rimangono schiave ubbidienti al loro padrone nessuna donna è abile quando riesce a procurarsi il peggiore e il più sottile dei mali un marito il solo fascino del passato è che è passato ma le donne non sanno mai quando la tela è calata non appena la parte interessante della commedia è finita ne chiedono la continuazione se potessero guidare a loro modo l'azione ogni commedia avrebbe una fine tragica e ogni tragedia finirebbe in farsa sono deliziosamente artificiose ma non hanno il senso dell'arte non credete alla donna che porta il colore viola qualunque sia la sua età ne ha una donna sopra i 35 anni che ami i nastri chiari è segno che hanno una storia una donna veramente fine non dovrebbe ballare con i figli di famiglia così evidentemente cadetti è il modo di farci credere civetta al giorno d'oggi i mariti vivono come celibi e i celibi come uomini ammogliati il mondo è veramente pieno di donne virtuose conoscerle equivale ad acquistare un'istruzione media pare che le donne londinesi oggi arredino le loro stanze esclusivamente con orchidee forestieri e romanzi francesi non bisogna mai cercare di capire una donna le donne sono immagini gli uomini problemi la donna normale non dice mai nulla all'immaginazione è limitata al suo secolo l'anima sua è palese e si riconosce come il suo cappello è sempre a portata di mano e nessun mistero l'avvolge cavalca alla passeggiata la mattina e charla intorno al tavolo da te nel pomeriggio al sorriso stereotipato e si veste con i colori alla moda le persone che mi hanno adorato non sono state in gran numero ma ve ne sono state hanno sempre avuto la cattiva idea di continuare a vivere lungo tempo dopo che io avevo cessato di amarle e dopo che loro avevano cessato di amarmi sono divenute obese e noiose e quando ci incontriamo cominciamo subito a ricordare il passato quanto è terribile la memoria della donna è una cosa spaventosa rivela un tale ristagno intellettuale i mariti delle donne bellissime fanno parte della cattiva società londra è piena di donne che hanno fiducia nei loro mariti si riconoscono sempre tanto hanno l'aria infelice l'uomo può avere una mentalità femminile proprio come la donna può avere una mentalità maschile per nulla al mondo sposerei un uomo con un avvenire lady hennie walton era una donna strana le sue toilette parevano sempre concepite in un impedo d'ira e indossate in un momento di tempesta era quasi sempre innamorata di qualcuno e siccome la sua passione non era mai corrisposta ne serbava tutte le illusioni voleva darsi un'aria pittoresca e riusciva soltanto ad essere disinteressata è buona norma non sposare mai una donna con i capelli color paglia sarà sempre incorreggibilmente sentimentale qualche signora all'aspetto di una edizione di lusso di un perverso romanzo francese preparata espressamente per il mercato inglese quella signora si era messa troppo belletto e troppi pochi abiti ieri sera ciò indica sempre la disperazione in una donna la signora sheveli è una di quelle donne modernissime convinte che uno scandalo doni loro quanto un cappello nuovo e portano entrambi in mostra per la passeggiata alle cinque e mezzo di ogni sera sono certa che adora gli scandali e il gran dolore della sua vita è che non riesce a raccoglierne a sufficienza per quanto si possa dire contro il matrimonio è certo che rappresenta un'esperienza non disprezzabile l'amore è di gran lunga superiore all'arte le donne sono meravigliosamente pratiche molto più pratiche di noi uomini non sono forse le donne più adatte degli uomini per sopportare i dolori vivono di emozioni non pensano che a nuove emozioni quando si prendono un'amante lo fanno semplicemente per avere qualcuno che assista alla loro messa in scena vi sono donne che godono grandemente a ogni nuova improvvisa scoperta di buone qualità nei loro mariti si vantano della loro felicità coniugale come se fosse il peccato più attraente le donne che amano sono molto più interessanti delle donne che odiano che cos'è l'amore un'illusione alle donne non è mai lecito scegliere la vita coniugale è semplicemente un'abitudine una cattiva abitudine ma si rimpiange anche la perdita delle cattive abitudini forse sono le stesse cattive abitudini che maggiormente si rimpiangono fanno parte essenziale della nostra individualità l'amore si migliora fatui sono coloro che amano una sola volta nella vita ciò che per loro è realtà e fedeltà per me non è che il sonno dell'abitudine o la deficienza dell'immaginazione la fedeltà è per la vita sentimentale ciò che per la vita intellettuale è la stabilità ovvero la conferma dell'impotenza essere innamorati vuol dire superare noi stessi esaltare noi stessi quando amo intensamente qualcuno non dico mai ad altri il nome di chi amo le donne usando la parola sempre scolorano e sbiadiscono ogni romanzo credendo appunto di farlo eterno le donne rappresentano il trionfo della materia sull'intelligenza come gli uomini rappresentano il trionfo dell'intelligenza sui costumi una grande passione è il destino di coloro che non hanno nulla da fare un momento di vita intensa un solo grande amore ed ecco che viene la morte un vero amore non è che un trastullo di donne queste non hanno mai saputo che cosa sia dolore di innamorati a mio parere nessuna foglia dovrebbe mai germogliare in primavera se non per le labbra degli innamorati che si baciano se non per le labbra dei poeti che cantano una data di passione il primo soffio ardente della giovinezza ecco che cosa vale tutti i proverbi accumulati dai sapienti non tormentare l'animo tuo con una filosofia morta non abbiamo noi forse labbra per baciare cuori per amare occhi per vedere avere segreti con le mogli altrui è un lusso necessario della vita moderna almeno così dicono al club certe persone abbastanza calve per saperlo bene ma un uomo non dovrebbe mai avere segreti con la propria moglie essa li scopre invariabilmente a una buona gentile ingenua fanciulla non è precisamente la verità ciò che si dovrebbe dire le donne hanno la passione del pericolo è una delle qualità che più ammiro in loro gli uomini ammogliati sono terribilmente noiosi quando sono buoni mariti e abominevolmente fatui quando non lo sono a mio giudizio il governo ha inflitto la più grave ferita alla felicità coniugale da quando fu inventata quella cosa spaventosa che è l'istruzione superiore della donna parlate sempre alla donna come se ne foste innamorato alla fine della stagione vi sarete creato la fama di possedere il più squisito tatto sociale è la solita vecchia vecchia storia l'amore ma non al principio bensì l'amore alla fine della stagione quando è molto più soddisfacente mio marito è come una nota di promesse che io sono stanca di riscontrare il dubbio e la fiducia trasformano l'amore in passione dando origine a quelle belle tragedie che sole rendono la vita degna di essere vissuta vi fu un'epoca in cui le donne sentivano questa verità e gli uomini no e fu allora che le donne regnarono sul mondo il vero rischio dell'amore è che duri il genio non è delle donne il matrimonio è una vera rovina per gli uomini le abbruttisce quanto le sigarette e costa molto di più il vero inconveniente del matrimonio è che rende la gente altruista e chi non è egoista manca di colorito di individualità compatisco una donna sposata a un uomo che si chiama giovanni probabilmente non potrà mai gustare neppure un istante le delizie incantevoli della solitudine ogni descrizione fatta da una donna non è mai frutto solo della fantasia perché vi concorrono anche eccitamenti sessuali involontari l'istinto primitivo e dominante nella donna la spinge sempre verso l'uomo normale e comune la vanità e un falso sproporzionato amor proprio sono il dominio del sesso femminile le donne non si preoccupano del domani vogliono l'effetto il successo immediato grande e strepitoso una donna sarà felice quando si saprà invidiata da molte altre donne la donna si trova nelle meravigliose condizioni di nascere con tutte le attitudini per la conquista del successo la differenza che distingue la donna originale dalla donna comuna è identica a quella che corre tra l'uomo sano e l'ammalato la donna ha un suo carattere tipico fondamentale da questo scaturiscono tutte le sue cattive disposizioni le donne debbono rassegnarsi a non sognare l'immortalità non posseggono quell'esuberanza di forza necessaria la donna è quasi sempre nemica del progresso e costituisce l'appoggio più fermo di qualunque reazione nessun altro istinto dell'uomo è stato modificato e viziato quanto l'amore nessun altro fenomeno psichico è stato più falsato e nebrato di questo la donna salvo poche eccezioni non è mai altro che un automa che si muove finché è caricato e non può cambiare da sé il meccanismo che regola al suo andare la legge dell'ereditarietà che si esplica specialmente nella donna spiega tutto il suo carattere e la sua strana psiche è straordinario osservare come le donne temano tutte le novità che non siano quelle della moda una caratteristica del pensiero femminile una donna confonde sempre religione e superstizione se la donna non segue la corrente della sua natura perde ogni profumo e ogni grazia tipica del suo sesso perché l'uomo raffinato e superiore si innamora sempre di una donna dozzinale e dirai quasi volgare mentre l'uomo dozzinale e volgare di una donna raffinata e superiore questo è ancora un mistero forse quando si dice che la donna è uguale a un serpente non si sbaglia anche lei ha meravigliose qualità di adattabilità non c'è donna che giunta a un rango superiore non sappia fare in modo da sembrare nata per quello la perspicacia femminile sa con un colpo d'occhio vedere gli attributi che spettano al suo nuovo stato e farli suoi chi può vantarsi di conoscere la donna le donne nella poesia appaiono non come sono realmente ma come l'innamorato se le immagina la donna ama molto l'arte plastica è per questo che un Apollo del bel vedere in carne ed ossa ma che abbia dimenticato il cervello nell'olimpo non dovrà mai temere per il suo avvenire la donna che legge i romanzi più in voga è in completo dominio dello scrittore che predilige parla pensa sente agisce veste cammina sta siede come l'eroina del romanzo l'amore è una cosa tanto naturale che ne pensino e ne dicano gli innamorati che non vogliono ammettere una cosa tanto semplice negli individui forti l'amore è una sorgente meravigliosa di energia e di attività le donne amano le parole grosse e i periodoni rotondi confessate a una donna di avere torto se veramente avete torto e avrete vinta la più grande battaglia su di voi è fatale che una donna debba sempre ritrovare in se stessa la causa prima dell'abbandono di suo marito la donna vive per il sentimento e l'ideale l'uomo per l'azione e dell'azione i matrimoni davvero felici sono quelli degli animali l'amicizia di una donna è sempre più calamitosa per un'altra donna che per un uomo consigliare una donna è la cosa più difficile di questo mondo è quasi sempre lo stesso che allontanarla da noi la donna ripete ingenuamente tutto quello che ha sentito senza distinguere la menzogna dalla verità oggi nel mondo le donne non ambiscono che una sola forma di successo piacere agli uomini il disegno di mandare a scuola superiore le donne è nato nella mente di vecchie zittellone o di mariti disgraziati bastonati o peggio delle mogli esso calpesta nel modo più aperto le finezze della vita femminile abbandonare una donna al proprio istinto è quanto di meglio si possa fare in oriente si sa che cosa significa l'educazione di una donna ballare suonare il flauto raccontar favole tindersi le unghie e le palpebre aspettare pazientemente il proprio signore è assolutamente impossibile regolare il gusto di una donna su quello di un uomo la donna nella la lotta per la vita alla vita più facilmente aperta degli uomini deve riuscire gradita a un altro sesso è desiderata dall'altro sesso che tiene le redini del governo l'uomo no deve riuscire accetto ad altri uomini e ciò è terribilmente difficile nessun uomo civile rimpiange mai un piacere e nessun uomo rosso ha mai saputo cosa sia un piacere fate che una donna mangi a pranzo per colpa vostra una ciliesa in meno troverà sempre tempo e luogo per rinfacciarvelo la donna in fondo è sempre più crudele e più perfida dell'uomo noi uomini abbiamo educato male la donna e ora abiasimando nei caprizi non facciamo che accusarci apertamente perché chiamare ancora la femminilità sesso debole se i fisiologi hanno dimostrato che è resistente come e forse più della mascolinità noi uomini avidi di governare da soli il mondo abbiamo messo su questo pregiudizio e spesso ne piangiamo i tristi effetti un uomo che sposa una vedova mi fa l'impressione che scenda in una bara infatti prende nel letto nelle braccia nel cuore della donna il posto di un morto non è mai avvenuto che una vedova nel mettersi a letto con il secondo marito trovi tra il corpo suo e del compagno quello del primo marito se ne potrebbe trarre una novella deliziosa no i poeti sono dei pessimi innamorati sfruttano sempre il loro amore la gioia suprema di essere padre è intesa veramente da pochi uomini la maternità invece da tutte le donne anche le più depravate